Siamo a Villa Ginevri, dentro la cucina con noi c'è Alice, la cuoca. Cosa ci prepari oggi di buono? Allora, per questa serata abbiamo preparato un'insalata di farro del territorio con carote e zucchine, radicchio con extravergine e kiwi, melone e rucola, sempre con extravergine, le focacce che facciamo noi qui in casa, e dei rotoli di pasta sfoglia, conditi sempre con verdure diverse, la frittata con le erbe e il polpettone vegetariano. Poi andremo a preparare, che ancora non è pronto, la pasta con l'aglio ursino, che è tipo un pesto con le noci. Cioè il pesto ursino è una pianta selvatica del Monte Nerone, un'erba più che una pianta. E poi, come dessert, abbiamo un dolce di amaretti, cioccolato e panna montata. Abbiamo l'acquolina in bocca. Un bel menù ricco, insomma. Beh, non vediamo l'ora di assaggiare allora. Grazie Alice. Prego, prego. Grazie. 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 Grazie.